Non sono bastate tre rimonte alla Recanatese per conquistare il primo punto in questo tribolatissimo campionato. L'altronde però con una terza linea di burro che anche oggi ha subito un poker di reti c'è poco da argomentare. L'atletico Ascoli più quadrato ha vinto senza rubare nulla. Si potrà disquisire poi sugli episodi rigori dati e non dati, ma se non si mette mano ed in fretta questo organico i giallorossi rischiano grosso. Gli ospiti invece sono stati bravi ad approfittare di queste manchevolezze riscattando alla grande il cappò di sette giorni fa con la fermana Mister Seccardini. Una partita particolare, avete vinto sicuramente per meriti vostri, avete anche approfittato delle manchevolezze altrui? Penso che sia stata una partita bellissima come ce l'aspettavamo, l'avevamo preparata. Siamo stati bravi a veicolare l'episodio questa volta e portarlo alla nostra parte. I meriti nostri sono quelli di proporre e di accettare con coraggio i rischi che il nostro gioco, la nostra mentalità, i nostri interpreti mettono ogni domenica sul campo. Il problema del gol non c'è mai stato perché poi prima o poi i ragazzi sarebbero sbloccati. Oggi è stata la conferma. Il fatto che oggi la partita sia stata abbastanza rocambolesca per certi versi è perché di fronte c'è un avversario forte, organizzato, intenso, con 5-6 individui che l'anno scorso erano dei punti cardine del campionato Lega Pro. È inutile che facci il nome io, ma l'avete visto da soli e quindi venire qua e fare punti è difficilissimo. Venire qua e veicolare il singolo penso che è impossibile e venire qua e accettare con coraggio questo tipo di partita con molte transizioni, con il coraggio di fare un'azione a testa e ai punti avrebbe vinto chi avrebbe fatto un gol più dell'altro. Hai quella sensazione che avete avuto un vero solo momento di difficoltà, cioè dopo il gol del 3-3, lì per un attimo l'inerzia l'avete persa? Sì, ma secondo me l'inerzia l'abbiamo tra virgolette anche un po' persa quando loro il secondo tempo sono arrivati forti dal primo minuto, quindi sono venuti intensi, quindi qualche piccolo fraseggio c'è mancato. Poi naturalmente è uno sport che vive di emozioni e poi hanno comunque sia uno sbaffo in più che si carica nei momenti di difficoltà la squadra e da solo ha cercato anche un po' di determinare, quindi diciamo che l'urto delle palle inattive era preventivato, quindi fa parte del gioco insomma la sofferenza. Usciamo con le ginocchia sbucciate e con tre punti e quattro gol fatti meritati ma sudati. Grande risposta dopo lo scivolone contro la Fermana. Ma l'avevo detto anche domenica, secondo me non è stato uno scivolone, anche perché poi oggi mi sembra che la Fermana ha perso, è un campionato livellato, combattuto, si può vincere e perdere con chiunque, l'importante è non perdere mai poi la natura, l'indole di ogni singolo giocatore, dello staff e della nostra società. Siamo una piccola realtà che quest'anno si dovrà far valere ogni domenica, ogni singolo giorno per portare a casa una salvezza che dista ancora la bellezza di 40 punti e saranno difficilissimi farli in casa e soprattutto anche fuori. Primo tempo giocato subito a ritmi forzennati con continui capovolgimenti di fronte ed emozioni a ripetizione con difese rivedibili. Al primo affondo passano gli ospiti, su cross dalla sinistra Severini in cui sto dito si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e non ha difficoltà di insaccare. Un giro di lancette ed arriva il pari, sbaffo e abile a lavorare un bel pallone in area, attraversone per canonici ed il diciottenne centrocampista si coordina alla grande battendo il portiere Pompei. Non c'è un istante di tregua, una conclusione di Di Maio da fuori lambisce il montante, poi al ventunesimo Mordini si inserisce in maniera impeccabile colpendo il palo, Cusumano a botta sicura con salvataggio nei pressi della linea di porta. Il batte e ribatti, non ha soste, pennellata Di Maio, testa dell'ex minicucci e stavolta del bello, si allunga e ci arriva. Al ventiseiesimo Ascolani di nuovo in vantaggio con Ciabuschi che risolve con diagonale, un batte e ribatti in area usufruendo di una libertà eccessiva. Dieci minuti ed ecco il 2-2, nonostante un fallo di Severini, Canoni ci riesce a smarcare D'Angelo che con esperienza e mestiere infila Pompei in uscita. Al quarantunesimo poi sbaffo Libera Mordini che trova la deviazione giusta ma si alza la bandierina per un fuorigioco, apparso dalla tribuna quanto meno dubbi. Improperi del pubblico ma si va a riposo senza altri sussulti. Ripresa e l'atletico ci mette 11 minuti per rimetterli in muso avanti ancora con un assist dalla destra. Deviazione di Maio e per Ciabuschi è un gioco da ragazzi appoggiare in rete. Stentano i giallorossi mentre l'ex mini Cucci di sinistro impegna ancora del bello. Quasi come un lampo nel buio al ventiduesimo l'arbitro vede un fallo di mano in mischia nell'area scolana, rigore impeccabilmente trasformato da sbaffo. I cambi sono decisivi e nel finale Scimia mette in aree un pallone sul quale Traini anticipa tutti ed infila del bello sul primo palo. Fine dei giochi e lo stesso Traini al 95esimo non infierisce. Sarebbe stato probabilmente troppo ma al Tubaldi è il caso che siano avviate profondissime riflessioni prima che sia davvero troppo tardi. La squadra crea, la squadra gioca, la squadra sa quello che deve fare, lo fa pure molto bene. bisogna avere anche un equilibrio e il calcio ha fatto l'equilibrio. Se tu non sei equilibrato e qui non è la difesa a tre, la difesa a quattro, la difesa a cinque. Abbiamo avuto la testimonianza oggi che anche con la difesa a tre dietro hai preso un gol che è di una lettura troppo diventata. Quindi vuol dire che manca l'attenzione, manca la personalità, giusto il coraggio di fare le cose.